Nella giornata odierna, alla presenza delle autorità civili, militari e religiosi, si è svolta presso la caserma Medaglia d'Oro Vincenzo Giudice, sede del Comando Provinciale, una breve cerimonia in occasione del 244esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Sono stati letti il messaggio del Presidente della Repubblica e l'ordine del giorno speciale del Comandante Generale del Corpo, al termine seguita la preghiera del finanziere. Prima dell'inizio della cerimonia sono stati resi gli onori ai caduti, in particolare alla memoria dell'eroe Vincenzo Giudice.